Per arrivare al concetto di impedenza in regime sinusoidale dobbiamo definire il bipolo passivo lineare, sempre in regime sinusoidale. Consideriamo il simbolo del bipolo generico, quindi un elemento a due terminali, immaginiamolo inserito in un circuito in regime sinusoidale in modo tale che la tensione ai suoi capi sia rappresentata dal fasore V e la corrente che lo attraversa sia rappresentata dal fasore I nel rispetto della convenzione dei segni dei bipoli passivi, quindi con la corrente entrante nel morsetto individuato col segno più della tensione. In generale possiamo sempre definire la tensione V come il fasore avente modulo pari al valore efficace della tensione e fase FI con V e analogamente per la corrente definiamo il suo fasore I come quel fasore avente modulo pari al valore efficace I è fase generica FI con I. Nella definizione di bipolo passivo lineare in regime sinusoidale dobbiamo semplicemente verificare il fatto che esiste una proporzionalità di tipo rappresentata rappresentata da un numero complesso tra il fasore della tensione e il fasore della corrente quindi questa proporzionalità la possiamo esprimere dicendo che il rapporto fra la tensione il fasore della tensione V e il fasore della corrente I è un valore costante costante però costante complesso questo valore costante complesso viene chiamata l'impedenza del bipolo passivo lineare il simbolo che si associa all'impedenza di solito è la lettera Z quindi noi possiamo definire l'impedenza del generico bipolo passivo lineare in regime sinusoidale come quel numero complesso Z dato dal rapporto fra il fasore della tensione e il fasore della tensione. è il fasore della corrente nel bipolo stesso quindi questo bipolo lo possiamo pensare rappresentato dalla sua impedenza Z se osserviamo l'espressione dell'impedenza risulta immediatamente visibile l'analogia con la definizione di resistenza che otteniamo dalla legge di Ohm come rapporto fra la tensione e la corrente che in quel caso però sono rappresentati da numeri reali mentre invece invece in questo caso l'impedenza è rappresentata da un numero complesso dato dal rapporto di due numeri complessi per questo motivo questa espressione prende il nome di anche di legge di Ohm generalizzata è evidente che l'unità di misura dell'impedenza continua a essere Ohm come nel caso in corrente continua essendo comunque il rapporto di una tensione con una corrente quindi l'unità di misura dell'impedenza è Ohm sviluppiamo l'espressione della legge di Ohm generalizzata per scendere un po' più nel dettaglio sul valore del numero complesso rappresentato dall'impedenza Z quindi noi possiamo avendo definito i due fagioli V e I da questa risulta risulta chiaro che Z è dato dal rapporto dei due fagioli che per comodità abbiamo espresso in notazione polare quindi avremo che nel rapporto dei numeri complessi il risultato avrà modulo dato dal rapporto dei moduli quindi il rapporto dei valori efficaci di tensione e di corrente è angolo dato dalla differenza degli angoli rappresentanti la fase della tensione e la fase della corrente quindi abbiamo che il rapporto dei valori efficaci di tensione e corrente mi dà il modulo dell'impedenza mentre invece la differenza della fase della tensione con la fase della corrente nell'impedenza stessa mi dà quello che prende il nome di angolo caratteristico dell'impedenza una cosa da mettere subito in chiaro è che l'impedenza Z nonostante sia un numero complesso quindi come V e I però non rappresenta un fasore se per fasore intendiamo quel numero complesso che rappresenta un andamento di una grandezza sinusoidale la Z non rappresenta l'impedenza sinusoidale ma rappresenta semplicemente quel coefficiente complesso che mi dà la proporzionalità fra la tensione e la corrente sinusoidale che interessano il bipolo passivo lineare per uscire dal caso così generico e non definito abbiamo che i bipoli passivi lineari in realtà saranno formati dalla presenza contemporaneamente o meno di componenti di tipo resistivo, induttivo e capacitivo quindi il bipolo passivo lineare il bipolo passivo lineare è rappresentato dalla sua impedenza che a sua volta sarà rappresentativa della presenza di una componente resistiva, induttiva e capacitiva quindi in pratica un bipolo lineare passivo in regime sinusoidale sarà dato da una combinazione di R, L e C quindi tornando all'espressione che abbiamo ricavato per l'impedenza vediamo che l'impedenza come tutti i numeri complessi può essere rappresentata sul piano di Gauss quindi disegniamo il generico piano di Gauss assi reale e immaginario una generica impedenza Z sarà rappresentata dal vettore Z che ha modulo uguale al rapporto dei moduli dei valori efficaci della tensione e della corrente quindi il cui modulo è V fratto I e il cui angolo caratteristico è questo che lo possiamo chiamare Fi dato appunto dalla differenza fra la fase della tensione e la fase della corrente ripeto ancora non dovremmo chiamare l'angolo Fi dell'impedenza come fase ma lo dovremmo chiamare come angolo caratteristico perché il nome fase lo riserviamo appunto alla fase di grandezze sinusoidali quindi lo utilizziamo per i fasori rappresentativi delle grandezze sinusoidali come la tensione e la corrente mentre invece la Z ripeto è semplicemente un numero complesso che rappresenta la proporzionalità fra tensione e la corrente per un bipolo passivo lineare se dell'impedenza noi ne vogliamo calcolare le componenti reale e immaginario questo sappiamo come fare semplicemente applicando il teorema di Pitagora allora la Z generica può sempre essere espressa qua l'abbiamo espressa in forma polare come V fratto I angolo caratteristico Fi che possiamo anche esprimere in forma cartesiana con una parte reale data da V fratto I per il coseno dell'angolo caratteristico Fi e una parte immaginaria più J quindi V fratto I sempre per il seno dell'angolo Fi la parte reale dell'impedenza rappresenta vedremo più avanti la componente resistiva dell'impedenza quindi gli si dà il simbolo R mentre alla parte immaginaria rappresenta vedremo anche questa successivamente la componente reattiva dell'impedenza che utilizza come simbolo la X quindi in definitiva l'impedenza del bipolo passivo lineare in regime sinusoidale è quel numero complesso che rappresenta la proporzionalità fra la tensione, il fasore della tensione e il fasore della corrente nel bipolo vi ricordo nel rispetto questo della convenzione dei segni in modo che il segno della legge di Ohm generalizzata sia correttamente positivo ricapitolando appunto quindi le relazioni esistenti fra la parte reale e la parte immaginaria dell'impedenza e il suo modulo, il suo angolo caratteristico noi possiamo scrivere che il modulo dell'impedenza Z non è altro che la radice quadrata dei quadrati di parte reale e parte immaginaria e il suo angolo caratteristico sarà l'arco tangente di parte immaginaria diviso parte reale dove la parte immaginaria X vi ricordo essere la definita reattanza chiamata reattanza e la parte reale R è semplicemente la resistenza o componente resistiva dell'impedenza quindi l'altra coppia di formule che mi consentono di passare dalla rappresentazione polare a quella cartesiana sono le classiche provenienti dall'applicazione del teorema di Pitagora che abbiamo già scritto prima quindi R sarà dato dal modulo dell'impedenza Z per il coseno dell'angolo caratteristico e la reattanza X sarà data dal modulo dell'impedenza Z per il seno dell'angolo caratteristico per il seno dell'angolo caratteristico